www.edifica.it Sul palco della sala conferenze della Fondazione Bisazza, in un confronto sull'edilizia orientata al recupero urbano e alla valorizzazione dell'esistente, in ottemperanza anche delle recenti norme regionali volte a ridurre il consumo di suolo, ingegneri, docenti, architetti, esponenti di famosi studi di progettazione come lo studio Foster e la Società Internazionale di Ingegneria Arup, nonché del Politecnico di Milano, dove opera il professor Francesco Causone, direttore scientifico di Edifica e lui in apertura a sottolineare il cambiamento in atto nel settore. C'è un cambiamento di visione, quindi il ruolo che ha il mondo delle costruzioni all'interno del sistema produttivo e all'interno del sistema ambientale, c'è un cambiamento di concezione dell'edilizia che parte dagli obiettivi, bisogna ragionare avendo già in mente la fine degli edifici, per molto tempo abbiamo ragionato in termini di emissioni legate all'uso degli edifici, il cambiamento in corso è quello che considera l'utilizzo delle risorse e le emissioni nell'intero ciclo di vita dell'edificio. Oggi il costruire è strettamente legato alla necessità di demolire prima ciò che non è più in grado di garantire sicurezza, economia di gestione, funzionalità. Ma demolire significa anche dover smaltire, ha osservato l'architetto Chiara Tonelli, parlando di nuove soluzioni che agevolano la ristrutturazione. Quindi io dico, quando abbiamo degli edifici, per quanto fatiscenti, per quanto che funzionano male, ma che sono solidi dal punto di vista statico e strutturale, o possono essere consolidati con facilità, riqualifichiamo quelli. Si possono riqualificare grazie alla prefabbricazione avanzata, quindi con una misura precisa di quello che è l'edificio, costruire nuove facciate, nuove pelli, doppie, triple, singole, quello che uno preferisce nel progetto in funzione delle esigenze degli abitanti, garantendo la vita agli abitanti in quell'edificio durante il cantiere. E in tutto questo, le piccole imprese, gli artigiani, che spazio possono avere? Un ruolo rilevante, secondo il professor Narne dell'Università di Padova, tutor del progetto di riqualificazione urbana, denominato G124, dell'architetto Renzo Piano. Credo molto nell'artigianato, nell'idea di riportare la scuola italiana a lavorare con i materiali, sperimentando con gli studenti, ma forse anche lo studio Foster, anche Arup, continuano a sperimentare su questo, questa idea che devi toccare, conoscere la gravità, conoscere le caratteristiche dei materiali, non è tutto digitale. Capitolo sostenibilità. Maestri di soluzioni in questo senso, è stato detto, erano gli architetti e gli artigiani del passato, le cui opere avevano una connessione diretta con la natura e l'uomo era sempre al centro dei loro progetti. Insegnamenti ancora di grande valore per team di professionisti con specializzazioni diverse, che partecipano oggi alla costruzione del progetto. Così è allo studio Foster. Abbiamo un gruppo di ingegneri strutturali, abbiamo un gruppo dei sociologi, abbiamo un gruppo dei pianificatori territoriali, abbiamo un gruppo di ingegneri ambientali, dove tutti insieme decidono. E usiamo il passato, la tecnologia, usiamo conoscenza del passato, quello che si chiama passive design, il disegno passivo, e poi applichiamo le nuove tecnologie moderne che possiamo per migliorare. Un bel esempio quello dello studio Foster. E altrove, normalmente come si opera? Ha chiesto con scetticismo il moderatore Maurizio Melis, divulgatore scientifico e voce di Radio 24. Dalla risposta dell'ingegnero Orlandi di Arup, la sensazione è che serva una più diffusa consapevolezza dei vantaggi ottenibili. Se si inizia a pensare ad un progetto per un budget che è stabilito, ma in una modalità che consenta l'introduzione di un certo tipo di tecnologie che portano poi dei vantaggi in fase di cantiere, in fase di realizzazione, e dei vantaggi anche lungo il suo corso di vita, allora questo alla fin fine è premiante. Insomma, i benefici sono evidenti e il mix tra le tecniche innovative, quelle recuperate dal passato, alla lunga, dà modo non solo di vivere meglio, ma anche di risparmiare. Bisogna crederci.